Maria D'Abbundo, Presidente della Cessistica Ischia, prima edizione di Ischia Summer Camp, una novità per la tua gestione, ricordiamo che è il primo anno da Presidente, dunque spieghiamo questo nuovo evento, come l'avete pensato? È già da un po' che ci stiamo pensando, ce l'avevamo in mente e per fortuna finalmente siamo riusciti a farlo, la nostra idea era quella di creare i camp, di avere come riferimento i camp che ci sono in Italia, che fanno intera firma, cioè di una giornata intera, quindi di strutturarlo proprio con due ore di allenamento al mattino, poi pranzo con i ragazzi, infatti abbiamo deciso di farli in itinerante, cioè per esempio un giorno portarli in piscina, un giorno portarli in spiaggia, un giorno andare in giro per l'isola per far vivere anche l'isola di Ischia in maniera diversa, visto che ci sono tante cose da poter fare e poi ritornare sul campo dalle 5 alle 7 e mezza per riprendere l'attività agonistica, insieme naturalmente ad istruttori e allenatori di spessore che comunque saranno nostri ospiti e daranno sicuramente un grande supporto a livello tecnico e di miglioramento soprattutto sui fondamentali perché sarà tutto basato su questo, cioè cercare di dare ai nostri ragazzi qualcosa in più che durante l'anno è difficile poter dare e quindi lavorare soprattutto su ognuno di loro in maniera specifica. Con noi infatti ci sarà a partire dal mini basket dove abbiamo avuto un bel numero di iscritti, Sandra Finamore che è il responsabile tecnico in campagna e soprattutto è un'istruttrice nazionale, insieme a lei naturalmente ci sarà Anita Agnese che è la responsabile del nostro centro mini basket, poi per quanto riguarda invece il discorso agonistico con noi abbiamo avuto l'onore di avere Pino Sacripanti che per chi non lo conoscesse è stato un grande allenatore a livello nazionale ed internazionale, lui quest'anno ha lavorato con la Virtus Bologna e fino all'anno scorso è stato vicino di casa nostra, infatti ha fatto delle bellissime annate ad Avellino, poi Cantù, insomma ha girato un po' tutti i club importanti e abbiamo avuto l'onore e il piacere di averlo qui a Dischia con noi per i nostri ragazzini, quindi per me questo è una grandissima soddisfazione. Insieme a Pino ci sarà anche Michele Mastellari, Antonio Gallo che è sicuramente un ragazzo che sentiremo parlare molto di lui nei prossimi anni, già ha avuto chiamate nella Nazionale Under 18, è in riserva nazionale, già ha giocato a Scauri in Serie B, ha fatto tanto bene nel settore giovanile e quindi veramente ho il piacere di averlo qui con noi perché lui sarà il dimostratore di tutti gli esercizi e di tutti i fondamentali da dover poi far fare ai nostri ragazzi. Insieme ad Antonio ci sarà anche Carolina Scibelli, l'allenatore Jacopo Ielasi. Ci sarà anche una parte relativa all'atletica e questo è anche un altro aspetto che va chiaramente di pari passo con il basket giocato. Infatti abbiamo dato una grande importanza al discorso della figura di preparatore fisico che comunque è una figura che a Ischia facciamo ancora fatica ad avere perché comunque ancora tanti non hanno la concezione oppure molti non si sono specializzati in questa disciplina e con noi infatti ci sarà Elia Confessore. Maria concludiamo proprio con un appello flash, chiaramente ai ragazzi di Ischia, la sfida poi nel corso degli anni immagino sarà quella di coinvolgere soprattutto i ragazzi della Terrafirma. Perché venire all'Ischia San Bergkamp? Venire all'Ischia San Bergkamp sarà sicuramente bellissimo perché comunque noi siamo carichi, pieni di energie e voglia di dimostrare la nostra grande passione per la Palacca Nistro e di voler migliorarci prima di tutto e confrontarci con tutto il resto e dimostrare che comunque anche nel nostro piccolo possiamo fare grandi cose soprattutto perché ci sono persone della Terra, tante persone della Terrafirma che ci vogliono bene, ci guardano e vogliono che Ischia diventi sempre più grande e più importante. Quindi vi aspetto tutti, anche chi non ha avuto possibilità di potersi iscrivere fino ad oggi, noi siamo lì al campetto ad aspettarvi e spero che insomma abbiamo portato una ventata di novità che possa durare nel tempo e migliorarci perché poi l'obiettivo per l'anno prossimo è sicuramente di invitare tutte le società che vogliono a prendere parte a questo camp e quindi fare qualcosa di ancora più importante. Ora dobbiamo cominciare con piccoli passi perché dalle piccole cose che poi nascono delle belle soddisfazioni, delle grandi cose.